Offrire la possibilità ai detenuti di recuperare il danno causato alla società con il loro comportamento illecito e allo stesso tempo riacquistare la loro autostima. Con questo intento, grazie a un protocollo di intesa stipulato nel mese di luglio del 2014 tra il comune di San Cataldo e la locale casa di reclusione, due detenuti dallo scorso 15 settembre svolgono lavori di pubblica utilità per l'amministrazione comunale. Un'iniziativa unica in Italia resa possibile grazie a una modifica dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario apportata nel 2013, periodo in cui era ministro Anna Maria Cancellieri. È un'importante novità normativa perché consente di raggiungere degli obiettivi su più livelli. Il detenuto va a svolgere attività gratuita che non è attività di volontariato ma è un'attività che si inserisce nell'ambito e nel concetto di giustizia riparativa, cioè cerca attraverso questo lavoro di pubblica utilità di ricucire lo strappo che ha determinato con la collettività nel momento in cui ha violato la regola sociale, ma è una novità normativa che ha importanti ripercussioni su altri livelli quali sono a livello individuale la possibilità del detenuto di recuperare in autostima, di acquisire una professionalità che potrà spendere quando avrà finito la pena e a livello sociale la possibilità di far acquisire alla collettività una immagine diversa del detenuto. Un'attività utile per la collettività, costo zero per l'amministrazione comunale così come ribadito durante la conferenza stampa a Palazzo delle Spighe. Si stanno occupando di piccoli lavori di manutenzione, in questo momento sono impegnati nella villa, anche nella cura del verde e in altre piccole attività che possono, che il comune diciamo ne ha di bisogno. L'impatto positivissimo, ben accolti dai responsabili del comune, ben accolti devo dire anche della cittadinanza che incontrandoli hanno visto loro molta buona volontà prodigarsi nello svolgere un'attività che al loro modo di vedere potesse essere utile per la società, per la collettività.